Ops a tutti, i miei cari opsini opsini, oggi un inquadratore molto diverso, molto diverso, in quanto voglio che vi concentrate sulla mia bocca e sul microfono. Oggi faccio un video veramente semplice di intense mouth sounds molto molto vicini al microfono e quindi spero di rilassarvi così, va bene, vado a sapere se il video vi è piaciuto, poi a fine video. Quindi io comincio, voi indossate un paio di cuffie auricolari, mi raccomando, così avrete un'esperienza migliore del video, ok? Perfetto, io allora comincio, quindi fatemi sapere poi se il video vi è piaciuto bene. Anche quando ti torriano un piacolari, mi raccomando, mi raccomando è piaciuto bene. grazie a tutti 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 non so grazie a tutti con questo grazie a tutti e a tutti il video grazie a tutti grazie a tutti vi mando un